Nonostante eventi di guerra, nonostante quello che sta succedendo nel mondo e soprattutto nei mercati finanziari classici, le criptovalute questa settimana, inizio settimana, hanno portato avanti un grande balzo, soprattutto bitcoin e si è tirato dietro anche alcune crypto, alcune altcoin che stanno performando benissimo. La prima fra tutte ovviamente l'Una Terra, ragazzi. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a fare il punto su quello che sono alcune criptovalute, ne ho 5 in serbo per voi, che andremo ad analizzare in tutto e per tutto per capire che cosa stanno facendo, quali sono le prospettive per queste 5 criptovalute per i prossimi mesi, quali sono un po' gli spettri davanti all'orizzonte, diciamo così, per il mondo cripto, delle cose che si potrebbero verificare e andremo a vedere anche un po' i target che sono stati messi a segno, per esempio, da Luna con un'operazione molto bella. Poi vedremo altre criptovalute di cui una è una chicca, ragazzi, che sta proprio in queste ore tentando di fare un break estremamente importante. Ne ho parlato ieri su Twitter, ma oggi andiamo a fare un'analisi ciclica e tecnica di queste criptovalute. Questo è insomma un super video operativo di trading dove andremo a vedere tutte queste informazioni e poi ci andremo anche a chiedere se nei prossimi mesi qualcosa potrebbe anche cambiare nell'ottica, ad esempio, di alcuni trend importanti. Perché, ragazzi, in linea di massima, nonostante il rialzo di Bitcoin delle ultime giorni e delle ultime settimane, la situazione sui grafici non è però del tutto tranquilla. E nei prossimi, dopo le prossime settimane, diciamo, dopo questa fase di presa e di respiro, alcune questioni potrebbero mettersi male. Vi do delle ibeccate in questo video e penso ancora oggi, ragazzi, come vi ho detto a inizio l'anno 2022, che il 2022 sia un anno pro trading e no pro holding. In questo momento tutto sta continuando ad indicare questa strada, tanto è vero che le operazioni di trading anche su Bitcoin stessi negli ultimi due mesi sono state molto proficue proprio perché i mercati non si muovono in un trend di lungo periodo definito, ma stanno facendo oscillazioni su e giù in trend di medio, che è, in pratica, ragazzi, è il santo graal del trading perché vi fa fare un botto di soldi proprio con questo tipo di operazioni e vi fa stare sul pezzo costantemente, ma nel lungo periodo, forse l'anno 2022, ragazzi, non ci riserverà grandissime sorprese. In lungo periodo parlo quindi con il superamento dei massimi storici di Bitcoin e anche di altre cripto. Allora, partiamo per quanto riguarda l'una, poi spariamo subito anche le altre cripto che vi assicuro sono una meglio dell'altra, ci sarà anche CRO, per esempio, e Dada, che andremo a vedere. Allora, partiamo subito con l'una, ragazzi. Nell'ultimo video, anzi, nel primo video del nuovo corso che sto preparando di analisi tecnica e analisi ciclica sui mercati delle criptovalute free, totalmente pubblicato sul mio canale YouTube, ragazzi, e lo trovate, insomma, vi metto sulla mia testa il link al video. Ok, in quel video, ragazzi, facciamo un semplice esempio di una tecnica per andare a fare trading sulle criptovalute e andare a cercare dei movimenti di natura esplosiva, cioè le criptovalute che potevano fare un boom, appunto, come quello di l'una. Esempio fatto concreto proprio sulla tecnica utilizzata per fare trading sull'una, che poi è andato a buon fine, ragazzi. In questo caso, quello che vedete qui in cerchietto rosso è stata il trade indicato proprio in quel video lì. Trade indicato che in questo caso, diciamo, è stato proficuo con il breakout confermato poi in close daily della livello di resistenza 62, e quella tecnica, ragazzi, la trovate in quel video, quindi non mi ripeto, andate a spulciare quel video lì per capire diversi motivi per il quale, insomma, questa operazione poi è andata a buon fine. Quindi lì vi spiego proprio tecnicamente come va impostata una tecnica di trading di questo tipo. Allora, invece, per quanto riguarda l'una, questo tipo di rialzo era possibile, magari questa intensità del rialzo, perché è stata veramente un'operazione incredibile, perché siamo andati in questo momento a un profitto di 42 punti percentuali in praticamente una settimana, ragazzi. Quindi senza leva, quindi bastava utilizzare una semplice leva, anche 2-3, e fate voi i calcoli, quindi oltre il 100% in pochissimo tempo. Perché questa struttura ha funzionato, ragazzi? Perché l'una stava in una fase di ripresa di un ciclo non solo mensile, che era iniziato lo scorso 31 di gennaio per quanto riguarda l'una, ma l'una ha anche un sottostante ciclo semestrale corto, partito probabilmente proprio il 31 di gennaio. Un ciclo più che semestrale direi quadrimestrale, perché sono 130-150 giorni sostanzialmente che fa l'una proprio con queste strutture cicliche. Però, ragazzi, qual è la questione? Vedete? Allora, ora siamo in dirittura d'arrivo con questa nuova struttura di 140-150 giorni, quindi abbiamo iniziato probabilmente questa fase. Ora, come vedete, l'una, dal minimo del suo nuovo ciclo annuale, che è avvenuto a maggio, quindi anticipo rispetto a quelli che sono le altre criptovalute, molto importante questa cosa, infatti sono due mesi che in Academy, ragazzi, noi seguiamo l'una come criptoanticipa... che può anticipare, quindi anticipatrice, diciamo così, di quelli che sono eventualmente dei movimenti anche di Bitcoin stesso, quindi dei movimenti anche di altre criptovalute. In questo caso, vedete, la struttura ciclica dell'annuale di luna è a tre tempi. Questo significa che questo ciclo ternario, questa ultima parte del ciclo ternario, sarà quello che andrà poi a concludere il ciclo annuale. Ed è proprio qui che si gioca la partita. Perché, ragazzi? Perché, come vi dicevo, ci sono un po' delle ombre su questi trend, proprio in vista del fatto che questa fase, questa app, per esempio, di luna stessa, è l'ultima parte del ciclo annuale. Quindi è vero che possiamo addirittura fare nuovi massimi, però poi ci sarà una parte di chiusura del ciclo annuale, una parte naturale di ribasso che magari non inficia quello che è il trend di lungo periodo assolutamente rialzista di luna, però potrebbe essere un po' difficilotta da gestire, ragazzi. Abbiamo visto, per esempio, che l'ultima fase di chiusura del ciclo, di questo ciclo quadrimestrale, quindi, diciamo così, di luna ha portato comunque a un meno 55. Questo potrebbe anche indicarci che un'eventuale fase di chiusura poi di un annuale, un meno 50 o meno 60, dobbiamo metterlo in conto, ragazzi. Quindi io direi, luna in questo momento si trova a fare i conti con il suo massimo storico, che è quello a 100 dollari. Superati i 100 dollari si va in price discovery, quindi probabilmente si potrebbe assistere ad una nuova fase di up anche fino a 150-160. Questa zona poi diventa estremamente interessante per un eventuale sell, qualora ci arrivasse, per esempio, intorno ad aprile, quindi verso fine aprile, perché da fine aprile in poi il mercato inizia a giocare una partita complicata. Quindi, ragazzi, abbiamo un mesetto, che è quello di marzo, che probabilmente sarà un po' più schiarito. Da fine marzo in poi bisogna poi rifare dei calcoli, perché ci avviciniamo sempre di più alla fase di chiusura dei cicli annuali, non solo di luna, ma anche poi delle altre criptovalute, e con questa struttura anche, diciamo, di guerra presente nell'economia, poi bisognerà stare fortemente attenti. Quindi, in questo momento, ragazzi, luna dovrebbe chiudere a momenti quello che è una sua ciclicità di natura mensile, e poi inizierà il nuovo mensile. Se il nuovo mensile inizia da questi prezzi, il breakout dei 100 dollari è praticamente cosa fatta. Ve lo dico proprio in maniera chiara, perché è molto difficile che se inizia un nuovo mensile da qui, proprio, senza andare a fare grandi ribassi, luna non riesca a breakare i 100 dollari, perché praticamente è attaccata, insomma, i 100 dollari. Quindi, un nuovo mensile, un po' di spin-up ce la dà, e quindi il breakout dei 100 dollari è cosa fatta, se inizia di qui. Diverso è la questione se invece va in down per la chiusura del mensile e ritorna a prezzi intorno ai 70 dollari. Allora, in quel caso lì, cambia radicalmente un po' la questione. Ora, siamo ancora un po' su un mensile un po' troppo stretto, perché siamo a tempi intorno ai 30 giorni, quindi il primo ciclo l'abbiamo chiuso in 20 giorni, potrebbe essere necessario un 38 giorni circa per andare a chiudere, quindi la prima decade di marzo, quindi fra 8 giorni. Perciò, ragazzi, potremmo assistere ad una fase di ribasso proprio di luna nei prossimi giorni, ma un ribasso appunto solo di chiusura del ciclo mensile, che a questo punto, ragazzi, sarà intradabile, quindi vi dico che, secondo me, una parte short su luna in questo momento ha poco senso. Poi tutto può accadere, come sapete, in borsa, ma assolutamente sarebbe un controtrend micidiale, quindi assolutamente da non fare. Mentre l'attesa di un'eventuale fase di riposo e poi ripartenza di luna è positiva, perché inizierà un nuovo mensile. Mensile che, secondo me, potrebbe andare a fare i massimi storici temporali, quindi relativi a un anno, magari, o a qualche mese su luna, interessanti, quindi prima della chiusura annuale, questo sto dicendo. È interessante questa criptovaluta, ragazzi, perché in price discovery sulle cripto sappiamo bene come può succedere qualsiasi cosa e quindi se dovesse andare a breccare questi 100 dollari nulla vieta che fa magari dei bump anche un raddoppio. Perciò, perché? No, ragazzi, ok? Quindi dei buy, dei dip in chiusura di questo ciclo mensile che dovrebbe fare, entro breve, se non lo sta facendo, praticamente in barra di congestione, perché è talmente forte che potrebbe anche farlo in barra di congestione. Quindi qui, con una tecnica di trading, con un minimo di conoscenza, con un minimo di strategia e trading plan, si porta a casa un'operazione di grandissimo profitto, secondo me. Quindi fate molta attenzione. Luna, in questa fase, è interessantissima, dopo la cross di questo mensile, per la nuova ripartenza, perché può fare nuovi massimi storici, e soprattutto può andare in bolla, perché le crypto in fase del genere, soprattutto se accompagnate magari di bitcoin, ci danno grandi, 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 grandi soddisfazioni. Va bene, andiamo alla seconda, che è stra positiva pure, però parte da più basso, che è Phantom. Phantom in questo momento sta realizzando, con la giornata di oggi, uno dei primi breakout importanti, cioè di questa fase, delle mie medie famosissime ormai, 21 e 11 medie che ormai avete imparato a conoscere. Questo breakout sancisce, in pratica, l'inizio di una nuova fase, di un nuovo trimestrale corto, quindi quelli da 70-80, che fanno le crypto più, diciamo, le altcoin, quindi le crypto non top come bitcoin ed ethereum. Questa è la struttura, sta iniziando una nuova fase. Ora, qual è il discorso? Questi trend sono in app per una fase iniziale, e quindi tutto può succedere su Phantom, perché addirittura potrebbe andare a breccare anche i massimi storici. Se fa una cosa del genere, allora poi abbiamo nuovamente una bullrun, eccetera. Quindi questo è un long, perché è un long che inizia proprio nella parte iniziale di questo nuovo ciclo. Poi, se dovesse girarsi subito a ribasso, andrà protetto con un stop loss. Come sempre, ragazzi, io non do consigli finanziari, sapete bene che per fare questo tipo di operazioni dovete avere delle conoscenze sul trading e dovete averle importanti, ragazzi. Ma vi assicuro che l'anno 2022 sta dando delle soddisfazioni abnormi proprio al trading, perché è un anno di congestione. Con questi movimenti ampi come Luna ha fatto poco fa, e ragazzi, i trader su questo ci fanno veramente numeri stratosferici. Uno dei miei sistemi, gli ultimi due mesi, ha performato oltre il 300% con una leva 2, una cosa che può succedere solo in questo tipo di momenti, quindi momenti in cui si fa trading range, parla di congestione, quindi proprio i momenti top per i trader. Phantom, tenetelo d'occhio in questa fase, perché questo è un bel rialzo, magari fa un pullback di nuovo su queste medie, ma dovesse continuare questo trend, secondo me interessantissimo, perché potrebbe andare a fare la campana alta di questo ciclo da 70-80 giorni. Campana alta che poi sarà il nostro take profit, quindi in questa zona qui magari vedremo dove arriverà. Intanto questa è un'imbeccata proprio all'inizio di questa nuova fase di break. Ricordatevi sempre di proteggervi, perché questo tipo di operazioni sono molto pericolose, anche per il fatto, ragazzi, che dallo stop loss o più logico di questo movimento, addirittura distano 40 punti percentuali, quindi sapete bene cosa significa e dovete utilizzare del position sizing, quindi dei livelli di posizione, quindi delle quantità, ecco, non mi venire la parola, piccole, adatte anche a subire queste meno 40, e poi magari fare dei piccoli buy-the-dip per mediare, ma poi sotto questo minimo si deve uscire, ovviamente, in stop loss. Quindi fate sempre attenzione alla quantità che utilizzate in queste operazioni, perché è pericolosa anche in vista appunto di uno stop. Bene, passiamo alla successiva, che è crypto.com. Adesso Kronos, il CRO, ragazzi. Sì, Kronos come criptovaluta in questo caso ha dato un'indicazione interessante. Intanto sta facendo delle cose molto simili a Bitcoin, quindi è assolutamente da considerare. 33 giorni, anche questa criptovaluta sembra aver iniziato un nuovo mensile, il 24 di febbraio, e dal 24 di febbraio, teoricamente, dovremmo avere almeno un 30 giorni, quindi verso fine mese di marzo questa cripto andrà a chiudere questo mensile. Ora, la scommessa di crypto.com, come vedete in questo video, siamo andati dalla più forte a scalare, stiamo andando in termini di forza, ragazzi. Quindi crypto.com è al terzo posto, in questo caso, come forza rialzista, perché è molto lontana dai 55, 0,55 dollari, che è il punto di snodo centrale di questa fase, perché se riesce a salire al di sopra di quel livello, allora abbiamo dei dati importanti su una questione ciclica, cioè sul fatto che potrebbe essere che proprio il 22 gennaio CRO, quindi Cronos, abbia chiuso il ciclo annuale. Se così fosse, abbiamo buoni mensi davanti per una fase di crescita di questa criptovaluta che potrebbe ritornare magari addirittura anche in queste zone qui, ragazzi. Quindi fra, sopra i 55 potrebbe ritornare, oddio, ho fatto una zona gigantesca, potrebbe ritornare in zona 06, 07. Questo è interessantissimo, questa fase qui dovesse avvenire, tutto avverrà proprio se CRO riuscirà ad avvicinarsi a questo livello, perché sopra questo livello, ragazzi, è inversione di medio-lungo periodo, nuova per crypto.com. è importantissima perché va a sancire la famosa inversione proprio con i massimi e i minimi, quindi i minimi e i minimi rialzisti, massimo fatto qui, ora se riesce a superare farà un massimo superiore e inverte il trend in maniera matematica, statistica. Quindi questa è una cosa importantissima. Ora, tentare la carta di Cronos arriva e superare 0,5, 5. È possibile? Sì. Perché in questa fase siamo a 1, 2, 3, 4, 5 giorni, 6 alla partenza di questo nuovo ciclo che è una specie di mensile, sicuramente. Ora, potrebbe andare su? Sicuramente sì. Ovviamente, ragazzi, non sembra fortissima come ad esempio Luna, non sembra avere queste carte in tavola, però questo potrebbe anche indicarci che ad esempio compriamo con meno rischio rispetto per esempio a Phantom che ha dimostrato molto più forza, però in questo caso ci dà anche un po' di rischio perché se noi andiamo per esempio a mettere uno stop in questo caso sotto il minimo precedente quello del 24 di febbraio abbiamo un 23% contro un 39 di 40 di Phantom. Quindi come vedete a volte bisogna anche miscelare come fa un buon cuoco quelle che sono strategie differenti. Quindi un po' su Crypto.com o long del genere è più pericoloso ma anche meno rischio dal punto di vista di stop loss quindi è più pericoloso che vada magari su perché sembrerebbe più debole sembra non farcela però da un altro punto di vista siamo un pochettino più vicini allo stop quindi qualora le cose girassero male usciamo con una perdita inferiore quindi anche qui ovviamente non do consigli finanziari in ogni caso. Allora passiamo alla chicca invece ragazzi che è Rune Rune sta facendo un breakout molto importante e molto significativo che mi è piaciuto veramente tantissimo ragazzi perché viene fuori anche da una questione ciclica molto rilevante vi faccio vedere anzi vi aggiungo i disegni ciclici eccoli qui allora ovviamente anche in questo caso ragazzi abbiamo pochissimi dati per quanto riguarda queste criptovalute che sono anche estremamente volati ed estremamente dipendenti dalle scelte del protocollo in questo caso di quello che fanno proprio i programmatori che sviluppano queste cripto quindi fare mi vedo costretto a farvi questo disclaimer perché quando le cripto non sono per esempio bitcoin e terum non sono luna non sono cripto.com cronos ma sono un po' più piccoline ovviamente risentono molto di più di quelle che sono le scelte decisionali del protocollo piuttosto che della struttura di analisi però a volte ragazzi questo tipo di analisi magari poi si va man mano a consolidare diventano interessantissime allora un tipo di analisi del genere sembrerebbe indicare che rune è all'inizio di un nuovo ciclo che potrebbe essere addirittura un annuale con un break del genere fatto è interessante ragazzi perché sembra proprio la partenza di una nuova struttura ciclica una nuova struttura ciclica su una cripto di questo tipo che tra l'altro è collegata a doppio filo con bitcoin e quindi anche la possibilità che bitcoin vada ad avere un ruolo differente nei prossimi anni anche nel settore della defi e in questo caso questo tipo di progetto è molto legato alla questione che vi ho detto e può essere interessante perché ragazzi potrebbe indicare l'inizio di una nuova fase totale per questo progetto allora ieri su twitter ho indicato il livello da breccare che è avvenuto nella giornata di ieri con un balzo di sopra dei 5.4 poi c'è come sempre adesso vi cancello questo livello poi c'è come sempre la fase di break pump e crash che indica appunto una presa di profitto da chi sta dicendo da chi sta tentando la strategia del fake breakout in questo caso e poi soprattutto anche per il fatto che è salita del 40% in un solo giorno quindi questo è un break importante ma è anche un break molto rischioso ragazzi perché perché questa criptovaluta parte da qui e ha uno stop del 46% ragazzi quindi guardate bene a cosa significa una cosa del genere quindi molto rilevante lo spazio però se dovesse essere iniziato a una fase nulla vieta che si può sviluppare una strategia di accumulo da qui ai prossimi giorni proprio in questa fase di tazzina di caffè perché dovesse appunto andare magari a scendere a fare qualche piccolo accumulo nell'attesa di vedere Rune poggiarsi sulle due medie mobili che ormai conoscete a memoria e iniziare un nuovo trend se questa cosa va a buon fine poi noi riusciremo a cavalcare un trend appena iniziato magari per X settimane e la cosa è molto proficua è un'operazione molto rischiosa però è molto ghiotta perché potrebbe innescare una nuova fase di alzista qualora poi non dovesse andare ragazzi si stoppa ovviamente bisogna anche diversificare il proprio portafoglio e mettere magari il cosiddetto cippino qui quindi una piccola puntata una piccola porzione del nostro dei nostri asset proprio perché sono operazioni estremamente rischiose ma a volte operazioni del genere poi diventano molto ghiotte ragazzi quindi magari andate a fare il rendimento che so sul 50% del vostro portafoglio lo fate con l'1% messo su crypto di questo tipo perciò è interessante ed è anche molto intelligente andare a diversificare questo tipo di operatività quindi Rune entra in questa top 5 come un'altra operazione estremamente ghiotta ma anche molto rischiosa quindi mi raccomando ragazzi fate molta attenzione andiamo all'ultima crypto in questo caso che è ADA che purtroppo continua ad essere invece una crypto fortemente rischiosa e sulla quale ragazzi io non mi sento di agire long in questo momento se non per un'unica fase che adesso vi farò vedere ma no la crypto in questione è molto rischiosa allora ADA vi dico già da subito che se i conteggi ciclici sono giusti ha breccato il minimo del ciclo annuale questo significa in sostanza che questa criptovaluta non inizierà una nuova struttura rialzista fin tanto che non va a chiudere questo nuovo ciclo annuale che purtroppo va in close teoricamente fra agosto e settembre del 2022 quindi fin tanto che non si arriva lì teoricamente continuerà un trend al ribasso se non che ci sarà magari la fase del ciclo semestrale che dovrebbe essere dovrebbe iniziare tra poco anche se qui per esempio abbiamo avuto questo rialzo che è pericoloso anche per ADA perché potrebbe in effetti essere un nuovo ciclo e addirittura essere debolissimo perché ADA potrebbe aver fatto da qui un inizio del semestrale qui siamo a 46 giorni vedete ragazzi quindi un po' una struttura ciclica anomala un po' un mensile lungo è difficile da vedere dei cicli nelle fasi ribassiste come su questa criptovaluta quindi me la chiedete spesso però ragazzi vi dico molto francamente è una cripto debole e potrebbe continuare questo suo trend al ribasso anche fino a fine agosto quindi agosto settembre quella quell'asso di tempo lì perciò io andrei sui piedi con i piedi di piombo solo un break di questo livello adesso su ADA che è 0 che è 1 1.3 solo un break di questo livello indicherebbe l'inizio di un nuovo semestrale perché solo un nuovo semestrale ragazzi può dare fiato a questo trend al ribasso molto pronunciato di ADA se non inizia un nuovo ciclo semestrale non vedremo nulla di che soltanto dei brevi pump e poi dump e ovviamente ragazzi se la visione ciclica è corretta quello che sto facendo qui con voi è corretto e non c'è stata una svista da qualche parte non c'è un errore da questo punto di vista teoricamente verso agosto settembre dovremo chiudere al di sotto di questi minimi quindi brutta storia diciamo operata perché potrebbe dimezzarsi ulteriormente il valore quindi fin quando non brecca l'1.3 questo è una cripto da short selling per ogni pump quindi ogni pump va tradato in short selling almeno fin quando non va a breccare questo livello e soprattutto non andrò long praticamente fino al superamento di quel livello poi verrà aggiornato man mano però state molto 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 attenti alla cripto ad proprio perché in questo caso secondo me la più debole di tutte queste top 5 che vi ho fatto vedere bene per oggi è tutto video stracolmo di dati stracolmo di analisi fatemi sapere quali sono le vostre preferite fra le top 100 delle criptovalute magari fatemi sapere come state agendo e quali sono le vostre preferite che hanno già un trend delineato al rialzo perché se bitcoin ci stupisce magari nei prossimi giorni che cosa potrà succedere lo vedremo ovviamente state sempre sul canale state sintonizzati e noi ci rivediamo nel prossimo video ciao a tutti ragazzi